Ora è tempo di andare attraverso sperimentazioni ritmiche, grazie molti gentili. Allora abbiamo a disposizione un Huawei, uno strumento primordiale che cominciamo a fare la prima ritmica, la batteria chiaramente non si muove da tuve, are you all ready for sperimentazione ritmica? 1, 2, give it to me. Ma il Huawei è uno strumento meraviglioso, riprendeli perché adesso ti faccio sentire il potere le Huawei, rimane da solo e fa tutto da solo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 In questa atmosfera così strana non può anche fare acquaio. Attenzione ai colpi di freddo, capricorno, andate a lavorare, cancro. when rollercoasteri got, money wateri got, monkey fingeri reset. Allora hugging me sonora, I don't know you and you don't hear me. One thing I can't tell you is you've got to be free So come together Over me Over me Ora esperimenti di interscambio Over me Over me Over me Non ci siamo ancora Over me Dobbiamo essere un po' insieme Over me 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 Over me